Ciao a tutte e a tutti dal vostro Andrea Cartotto. Segnate sul calendario la data di oggi, 29 di ottobre, perché correva l'anno 1969 e il 29 di ottobre di quell'anno si può dire che sia nata la rete che ha generato quella rete internet che oggi tutti usiamo. Infatti il 29 ottobre 1969 abbiamo avuto il primo collegamento alla rete ARPANET, primo collegamento da computer a computer. Si trattava di una rete nata per usi militari al tempo della guerra fredda e ARPA è l'acronimo, cioè la sigla, che identifica il Dipartimento per le ricerche avanzate della difesa degli Stati Uniti di America. Quindi un compleanno davvero importante, si può dire che da lì sia davvero cambiato il mondo. In Italia dovremo ancora aspettare alcuni anni per il primo collegamento ad internet. Infatti consideriamo il primo collegamento a internet dall'Italia quello del 30 aprile 1986, da Pisa. Quindi oggi buon compleanno ARPANET, ma in effetti anche buon compleanno internet. notiber date notiberate notiberate Grazie a tutti.